si mette che qua e il mio capito eccoci qua ciao ragazzi buongiorno a tutti e tutti allora con melania ci siamo fatti un po di provviste stamattina al vestare di palau in via razzulli allora iniziamo olio dante terre lontane che abbiamo pagato anche questo un 750 ml quindi non è da litro quindi l'abbiamo pagato 3 e 99 poi uova allevamento a terra 1 e 80 comodori antonella e 2 abbiamo pagato 2 e 25 erano con gli sconti due pezzi erano 1 e 39 non so assi 225 225 però va in da entrambi sono stati tolti 86 centesimi da tutte e due da uno e dall'altro fette di scontate questi qua quanto pensano un euro e 99 poi zucchero del spa eccolo qua che lo prendiamo sempre un euro da 5 kg poi basilico eccolo qua basilico e lascia per questo della sardegna si un euro e 59 abbastanza cari c'è poi ce n'è di meno delle altre volte vi credete che non l'ho notato e avete messo di meno cioccolati cioccolati kinder buonissimi ecco quanto pesano questi sono 8 barrette si costano 1 euro e 65 confettura santa rosa eccola qua questa ciliegia squisita abbiamo già assaggiato 350 grammi 2 euro e 15 pasta barilla eccola qua facciamo adesso l'altro sono due sì due pacchi sono 135 meno 56 centesimi mi pare che viene 79 centesimi al pacchetto mi abbiamo preso due ecco che tutti gli usi sarebbero queste canto di me un chilo e 500 grammi ecco sono 259 pomodorini a graffolo mi prendiamo sempre questi devo fare il mestrone quindi mettiamo anche quelli si sono quanti erano for successo al filo a chilo 369 hanno pensato 270 grammi totale un euro per il seno lo ammazzo eccolo qua e l'ho preso qualche volta abbastanza fresco 89 centesimi uno yogurt qua al cocco molto buono gustoso ragazzi lo consiglio perché nel mondo è di 125 a e 250 grammi complessive due allora questi sono i kilogrammi 3 e 29 ha pesato 410 grammi 1 euro e 35 la vedete passiamo l'ac NZSE che è wifi poi arance e'dorico a la bianca al kilo fanno vedere quanto sono mezzo guardamente in 2 non c'è l'uscita saltire al chilo 99 centesimi è possibile e poi peso netto un chilo e 55 grammi un euro e 54 centesimi fagioli borlotti ecco qua questi un bel sapettino non so male li ho già presi altre volte al chilo sono 3 euro e 29 questi sono 758 grammi 705 785 grammi totale 2 euro e 59 poi c'è questo auricolare della cellulare line che mi sono benissimo altre purtroppo sono andata a farsi friggere ho dovuto riprenderle e sono molto buone ve le consiglio perché hanno un buon audio si sentono veramente molto bene allora questi costano 14 e non vanno finisce però senza sconto non volevamo andare d'altra parte lo prendevi totale 44,44 euro euro 6,62 centesimi e questo poi abbiamo preso un po di cose a sapone a sapone le prendiamo e facciamo ce l'andiamo la che lo scontino si spero di si non lo so se ci vai non fa niente eccolo si si poi dice che da lunedì mi hanno dato un volantino che dice che da lunedì ci sono gli sconti allora shampoo shampoo frutti antiforfora dov'è e questo e questo si eccolo antiforfora 2 euro e 79 euro poi bagnoschiuma vidal vidal è molto buono mi stai dicendo anche quello 1 euro e 70 quindi è un po' in carico e va bene poi c'è vidal bagno anche questo vidal questo qui i collegi di guarderlo qui sono molto buono questo no vidal scusate mi sono confusa quest'altro è vidal ne avevo preso due vidal poi aspetta vidal bagno si uno e 70 lo stesso si poi c'è mantovani due mantovani due mantovani uno è alla estra freschezza estratti di eter e cetriolo questo lo voglio provare quanto ce n'è aspetta l'attimo 500 e entrambi così e questo è alla e sono due da 1,49 abbiamo fatto un po' di provvista questi sono scusa allora mantovani sono caduno a 1,49 euro meno di vidal vidal a me mi da un po' di pizzicore alle mani mantovani lo trovo più dolce spiega il perfetto si perché più non mi fa venire questo specie di puritino non è grave non un po' e quindi ho provato per caso un giorno questo mantovani e mi è venuto più salutare capito perfetto poi c'è un altro frutti questo qua e ci sto trovando e 79 mi pare che non l'hai ancora più non faccio l'ho provato tanto questo molto 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 buono teatrì titrillo il molto buono quanto ce n'è ce n'è 150 millesimi di grande allora costa 5 euro 5,5 totale 16 e 56 questa è la spesa nostra di oggi vediamo netta al corrente così ci potete e rischi beh arrivederci e godetevi questa bella giornata di oggi prima primis a tutti tante cose stupende a tutti nella vostra vita ok ciao ragazze grazie del supporto like commento e iscriviti e iscriviti ciao a presto un bacione